Ciao a tutti ragazzi da Zebra, Samp Lecce 02. Ragazzi, questo Lecce, questo Lecce, e l'ho sempre detto e ne sono orgoglioso, questo Lecce ha sempre detto la sua, anche quando le partite le ha perse. Ragazzi, oggi con questo 2 a 0 si porta a 15 punti ragazzi, a 15 punti. Chiude questo primo, con questa prima tranche, questa prima parte di campionato, ragazzi, io penso con un bel bottino in Lecce, con un bel bottino. Forse per il gioco che esprime, per il gioco che ha espresso, poteva fare di più, poteva avere qualche punto in più, però arrivati fin qui va bene così, va bene così ragazzi, va bene così. Un Lecce che ha cominciato questa partita, ah, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ha cominciato questa partita ragazzi, col solito Lecce, con pressing alto, con l'inserimento degli esterni, attacco laterali. E poi ragazzi, quando sembra che la partita stia andando sullo 0 a 0, che Colombo è un po' addormentato, non entra ancora nel vivo dell'azione. Ecco lì la zampata che il Lecce, con la sua velocità di gioco, con le sue ripartenze, lancia Colombo, con il sinistro in rete, in rete. Un secondo tempo che il Lecce, nei primi minuti, continua con il suo pressing, con il suo gioco, ma con i campi della Samp, l'iniziativa del gioco cambia. Cambia che significa che la Samp comincia a pressare e ad attaccare più alto. È normale, quando non hai più niente da perdere, devi andare ad attaccare. Insomma, da oltre il sessantacinquesimo, la Samp ha cominciato a giocare. Ha giocato per circa un quarto d'ora nell'area del Lecce. Da quando il Lecce non ha fatto le sostituzioni, ha cambiato gli esterni, ha cambiato poi anche la punta. Beh, ragazzi, si è visto, è entrato Banda, ha spaccato letteralmente la partita. 2-0 per il Lecce. Quando Banda prende la palla, non lo può più rincorrere. Soprattutto se dopo una partita di sacrifici e fa entrare uno come lui, veloce e fresco, è impossibile prenderlo. È impossibile prenderlo. Anche lui ha segnato, dopo tante volte che ci è arrivato vicino al gol, purtroppo deve imparare anche lui a, tecnicamente, sottoporta ad essere più cinico, tecnicamente a gestire la palla. Ma in questo caso, in velocità, anticipato il portiere. Go di Banda. Questo è il Lecce. Una squadra che, in difesa, con l'accoppiata Baschirotto-Utti, ragazzi, è veramente una difesa da Serie A. Non c'è niente da fare, ragazzi. Non c'è niente da fare. Avevamo detto che Baroni doveva trovare l'iniziativa a livello di attacco, qualcosa che potesse agevolare il Lecce. A livello realizzativo, forse ha trovato la quadra, perché questo è il secondo, sì, con la Samp, però l'ha fatto anche con l'Atalanta. Questa è la seconda partita che va su due gol, non più su uno. Quindi forse ha trovato il sistema, in effetti ha fatto la stessa cosa, la stessa squadra, occhio che Lecce rischia, la stessa squadra, i stessi cambi che ha fatto con l'Atalanta. Siamo lì. Però, squadra che vince, squadra che non deve essere cambiata. Sono d'accordissimo. Va bene così. Si va alla sosta con il Lecce tranquilla, sopra alla zona retrocessione. Un bel Lecce, continuo a ripeterlo. Forse a gennaio ci vorrà qualche innesto in attacco al centrocampo. Però, questo è un vero, una vera squadra. Questa è una vera squadra. Ragazzi, la partita è quasi finita. Io vi invito ancora a iscrivervi al canale. Che devo dire? Complimenti al Lecce. Grande Lecce. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.